è bellissima, hai ragione, è veramente tanto divertente hai sempre ragione Bink oh no, 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 no ciao bambini ben giornati sui cartoni animali per bambini cos'è? Luke Stars con la sorpresa dentro ne apriamo uno? ciao bambini certo Bink, ne apriamo uno però prima guardiamo cosa c'è abbiamo una bellissima lucchetta rosa con un corno ma cos'è? l'unicorno cucciolosa abbiamo un alieno con uno, due, tre, quattro, cin sei occhi, hai visto? sì, sei occhi, mamma mia ma anche lui è una sorpresa sì, anche lui è una sorpresa ma più che altro Bink, guarda li puoi mettere sulle scarpe, sui zaini dappertutto questi lucchetti hanno un filo che si attacca ovunque davvero, ma è meraviglioso è vero Bink, è meraviglioso tre, lucchetto verde ma è una coniglietta è vero, è una coniglietta Bink mettiamo da questa parte oh, non ci stanno più ma quanti sono? oh, questo è un mostro, non mi piace allora niente, il quarto è il mostro bambini e lo mettiamo via poi, il cinque chi è? oh, questo è, penso che è un toro e perché è un toro? perché è un corno, hai visto? hai anche ragione, tu sì, ha un corno lì oh, dai, toglielo, non mi piace va bene, niente toro abbiamo un'altra extraterrestre con tre occhi e due corna è vero bello, a lei mi piace lasciala qui va bene ma ne mancano altre due Bink guarda, un altro lucchetto cassaforte wow, questo è fantastico vero bambini? se vi piace, mettete mi piace è vero bambini, meraviglioso questo e l'ultima oh, è un panino è vero bambini è un panino guarda, guarda si vede anche l'insalata hai ragione Bink si vede l'insalata mettiamolo qui Bink tra tutti questi nostri nuovi amici lucchetti guarda quanti ne abbiamo che quale vorresti aprire? fammi pensare panino nolino abbiamo il mostro con nuove occhi? sì, apriamo proprio lui allora Bink vediamo fermati un attimo qui che io apro apri, apri che io guardo oh, ma qui c'è l'istruzione vediamo cosa dice vediamo cosa dice questa istruzione ma c'è tutta la collezione dei lucchetti sono tantissimi allora, collezione l'è tutta la collezione e dice che sono tutti lucchetti stores della serie 1 bambini ma noi li abbiamo quasi tutti che bello oh no tutti, guardate, ci sono anche questi e sono tutti da mettere sui zainetti scarpe e dappertutto troviamo via questa bambina vediamo il nostro amichetto come si apre una sorpresa qui qual è? un altro lucchetto adesso vediamo se abbiamo la chiave che la apre abbiamo due chiavi vediamo questa verde proviamo ad aprire il lucchetto piccolo lo metto qui no, non si apre ma questo è finto o forse no dobbiamo trovare il suo lucchetto adesso sono curiosissima è un extraterrestre il suo occhio con la linguetta bello, bambini vero, Bink? è bellissimo hai ragione è veramente tanto divertente hai sempre ragione, Bink questa chiave la lasciamo per adesso prendiamo il nostro lucchetto con la sorpresa vediamo se questa chiave lo apre bambini tutti pronti? allora la chiave si mette così giriamo si è aperto guardate qua dentro c'è un'altra forma di occhio suo è un occhio che puoi mettere dove vuoi Bink te lo mettiamo sul dito? oh sì mi sta benissimo è vero Bink ma non è finita qui quindi la chiave l'abbiamo trovata qui abbiamo aperto ho trovato la sorpresa ma la sua testa non si apre si è aperto anche il lucchetto che bellissimo meccanismo e quindi si richiude la chiave si tira fuori e il lucchetto è chiuso se questa chiave è sua forse quest'altra è sua doi per favore voglio aprire e vedere cosa c'è dentro no bambini si vede che dobbiamo trovarne la collezione e qui c'è l'ultima cosina sempre da mettere come l'abbiamo messa al Bink la puoi mettere sul zonoscorpo che bella bambini se vi è piaciuto il nostro video è la nostra nuova collezione di look stars mettete mi piace commentate se volete e iscrivetevi al canale se vi interessano altri nostri video che sono proprio qua su ciao ciao bambini ciao ciao bambini ciao bambini ciao bambini Grazie a tutti.